VINCE! Potreste fare piano qui fuori! C'è gente che cerca di... Bam! Gwendole, in giro! Un gira inutile, mutante! Oh! Ti ho preso! Grazie per la bella intercettazione! Non c'è di che! Ora portoci via da qui! E adesso? Prendiamo il treno! Ci servono due spallatori robusti, un ingegnere e un bel po' di carbone! Un bel bottone verde? Oh, sì! Dove sono? Non li vedo! Pensavo che fossimo in buoni rapporti, Tetax! C'è un collezionista che pagherà parecchi soldi per un umano che sa cambiare forma! Siamo cacciatori, non prenderla sul personale! Attaccare me è una questione personale, direi! Corri, Bam! Cavoli, il treno è finito! L'ingresso non è abbastanza largo per entrambi, Six Six! Troverò qualcosa di utile! Un barattolo di limatura di ferro! Gwen, al volo! Pronta! La volta finché sono distratto! Potremmo saltare giù! Gwen, attenzione! Finalmente! Gwen... Adesso calmati! Dentro questa cella energetica ogni resistenza è inutile! E poi presto starai meglio! Il tuo nuovo padrone si prenderà cura di te! Farai una vita comoda! Sì, ma non voglio questa comodità! Six Six, porta la nave in posizione! Ah, ora ho capito! Tetrax è il tuo padrone, Six Six! Sei il suo animaletto! È solo lui a stabilire le regole! Non tentare di confonderci, mutante! Perché sono stato io a catturarlo! E adesso muoviti! Ma la sfera è stata una mia idea! Oh, lui è la mente creativa del gruppo! Perciò la sua ricompensa sarà maggiore delle vostre! Silenzio! Io dovrei prendere più soldi, visto che ho pensato più di voi due! Non essere ridicolo! Il capo sono io e la quota del capo spetta a me! Non mi importa se siamo arrivati qui con la tua nave! Il contatto è mio! Io ho trovato il lavoro! Ma che ho guadagnato un po' di tempo, devo trovare il modo per uscire da qui! La superficie sembra essere composta da una specie di gel elettroconduttivo! Se solo riuscissi a forzare la struttura, l'elettricità svanirebbe e addio prigione! Ma cosa posso usare per applicare una forza così concentrata? Dov'è il nostro obiettivo? Quella è perfetta! Lasciami la testa, inutile crostaceo! Bravo! Hai perso l'obiettivo, testa di legno! Pensi ancora di meritarti più soldi? Dovrei vaporizzarvi seduta stante e prendermi anche le vostre ricompense! Devo raggiungere in fretta l'altezza adatta per essere colpito! Posso sfruttare le assi rotte! Devo solo scegliere il momento giusto! Tre, due, uno, adesso! E ora il laser! Perfetto! Che cosa è successo? Prendiamolo! No, restate qui a finire la discussione! Non puoi scappare, giovane umano! L'Honitrix si è già ricaricato! Futurale! Non puoi scappare, giovane umano! ienen rimili... 자신 di rotare, giovane